Ciao, oggi voglio parlarti della legge 10. La legge 10 è un documento fondamentale e importantissimo, soprattutto in questo periodo storico, perché senza di esso non si riuscirà ad accedere all'eco bonus del 110%. Perché ti dico questo? Perché tutti gli interventi che vengono citati all'interno dell'eco bonus devono essere soggetti alla presentazione in comune della legge 10. Senza quel documento tutti gli interventi rischiano, in caso di controllo, di perdere l'agevolazione del 110%. Questo perché? Perché la legge 10 è un documento obbligatorio. Lo stesso decreto fa riferimento al decreto dei requisiti minimi, che regola tutto quello che è l'efficienza energetica a livello nazionale e viene poi declinata in alcune regioni con dei loro regolamenti regionali specifici. Ma il tema è che questi interventi hanno l'obbligo di presentazione della legge 10 e senza o presentarla o saperla fare corri davvero dei fortissimi rischi. Nel primo caso di far perdere appunto l'incentivo al tuo cliente, nel secondo quella di perdere questa opportunità a livello lavorativo per i prossimi due anni, che ti farà sicuramente incrementare il fatturato del tuo studio tecnico. Se sei un tecnico del settore dire probabilmente hai già sentito parlare di legge 10 e sai che soprattutto negli ultimi anni è diventata molto più complessa e devi sapere individuare qual è l'intervento all'interno della legge 10. Per darti un aiuto ho fatto appunto questo video per andarti a dire che quando interverrai con la coibentazione a cappotto sicuramente sarà una ristrutturazione e non una riqualificazione e nella fattispecie sarà una ristrutturazione di secondo livello se non andrai anche a toccare gli impianti. Perché dico che sicuramente sarà una ristrutturazione di secondo livello? Perché il decreto prevede che per accedere all'eco bonus tu debba intervenire su una superficie disperdente lorda maggiore del 25%. Quindi oltre a saper calcolare quant'è la superficie disperdente lorda sicuramente andrai ad agire su più del 25% di quella superficie e quindi cadrai sicuramente in una ristrutturazione importante di secondo livello. Quindi bisogna che ti stampi bene in mente questa equazione ecobonus con coibentazione a cappotto uguale ristrutturazione importante di secondo livello. Mi raccomando è fondamentale che tu vai a selezionare questo tipo di intervento quando vai a redigere una legge 10. E se tocchi anche l'impianto? Beh se tocchi anche l'impianto e il cappotto coinvolge più del 50% della superficie lorda disperdente allora in quel caso il tuo intervento sarà una ristrutturazione importante di primo livello. E se invece tocchi solo il generatore di calore? Beh in questo caso oltre a consigliarti di calcolare bene che venga effettivamente fatto il salto di due classi sei nel caso di una riqualificazione perché non vai a toccare nessun tipo di superficie disperdente del tuo involucro edile. So che questi argomenti possono essere ostici soprattutto per chi si approccia la prima volta alla legge 10 ma ti assicuro che questi concetti non sono così difficili se spiegati passo passo e sono assolutamente alla portata di tutti. Proprio per questo per chi si approccia all'argomento o chi ha dei dubbi e vuole chiarire tutti quelli che sono gli aspetti che regolano la legge 10 ho creato il percorso 10 in legge 10. Un percorso pratico che ti spiega passo passo come andare ad operare e a realizzare la legge 10 per poter approfittare di questo momento storico irripetibile in cui anche il tuo studio tecnico sarà sommerso di queste richieste. Non ti resta che cliccare qui sotto e richiedere maggiori informazioni.